Non è neanche Kawasaki. E adesso? Rosso Congo. Amiloidosi. Che altro potrebbe significare, rosso Congo? Non è sulla lista. Non c'era motivo che ci fosse... Una proteina no, ma la sviluppatasi all'interno del suo organismo distrugge gli organi uno per uno. Spiega tutto. Le anomalie delle lastre, il midollo osseo, l'insufficienza renale... Abbiamo escluso l'amiloidosi perché non era compatibile con i sintomi riscontrati. Nessun danno al cuore. Non risultava dalla prova da sforzo. Non abbiamo insistito. Aggiungi il colorante e vediamo. Aggiunto rosso Congo. Cambia la polarizzazione della luce adesso. Potrebbe essere curabile. Ma come diavolo hai fatto? Non è merito mio. È stata una musa. Oddio. Sottotipo AA. Dottor Hauss. Hai l'amiloidosi. Ha compromesso polmoni, reni, midollo e cervello. Perché dovrei chiederti adesso? Se mentissi, non ti direi che il sottotipo è AA. È terminale. Congratulazioni. Hai trovato la risposta. Grazie a tutti. Grazie per la visione! Grazie a tutti!